Da sempre la bellezza ti distingue, ti fa star bene e ti fa affrontare tutte le occasioni della vita. Ogni donna sogna di apparire agli occhi degli altri come si sente dentro. I piccoli difetti fisici e i segni del tempo che quotidianamente ti affliggono possono essere finalmente eliminati. Ritrova il sorriso e la fiducia, da oggi è possibile, affidandoti alla sicurezza dei risultati che hai sempre sognato. La Clinique è la risposta che cercavi. La bellezza che hai sempre desiderato ora è un traguardo raggiungibile. Scegli il meglio della medicina e chirurgia estetica, regalati una bellezza unica. Scegli la Clinique, la prima organizzazione italiana di specialisti in medicina e chirurgia estetica.